Allora Giovanni Russo, palinsesto di Teleclev per un anno alla grande come del resto fate da tanti anni nell'informazione. Sì cerchiamo di fare del nostro meglio per offrire un'informazione di qualità ma soprattutto un'informazione che sia al progetto 60 gradi. Notizie, sport, cultura per dare a questo territorio quello che serve, quello che fanno anche tanti colleghi, anche tante web tv come Nanotv che lavorano sul territorio e sul pezzo. Fatemi anche dire che Nanotv spesso per noi è anche un esempio per come è sempre prestata e riesce sempre a raccontare le notizie prima di tutto. Francesco Molaro parte di questa grande famiglia di Teleclev, i palinsesti presentati oggi in una location meravigliosa e storica del Varca d'Oro. Quali sono le novità e quanta la tua passione che ancora una volta continui a mettere? Grandi novità ma soprattutto continuità perché per lo sport per esempio dodicesimo anno di Club Napoli News, c'è Carlo Alvino con Dillo Adalvino che verrà riconfermato e poi il Tg un lavoro immane da parte della redazione giornalistica in diverse situazioni, quelle di Napoli, quelle della provincia e tanto lavoro anche per il web e quello che ne concerne. Poi ci sono grandi momenti della nostra emittente con tante cose culturali, incantesimi, solari, saranno una cosa straordinaria dove racconteremo ancora Napoli e poi le tante produzioni live che facciamo perché Teleclub Italia è una realtà che è cresciuta negli anni grazie a Giovanni Russo, ma grazie a tanti ragazzi che ci stanno lavorando e che ci mettono grande voglia e impegno.